Si allungano i tempi di approvazione della norma sulla riorganizzazione della rete ospedaliera in Sardegna. Questa volta lo stop ad un varo rapido del provvedimento, attualmente all'esame della Commissione Sanità del Consiglio regionale, è arrivato dal PD, partito di maggioranza relativa nella coalizione, che esprime il Presidente dell'Aggiunta Francesco Pigliaru. L'approvazione che l'Esecutivo voleva portare a casa prima di fare agosto, di fatto slitta a settembre. Nel frattempo si cercherà una mediazione rispetto ad alcune posizioni critiche sulla riforma espresse sia dai partiti alleati che dal lancio e dai sindaci. La svolta è stata sancita ieri nel corso della direzione regionale del PD, che si è tenuta a Oristano. Verrà creato un comitato ristretto, costituito da sei persone, tre consigli regionali e tre indicate dal partito. Queste avvieranno un confronto diretto e continuo sia con l'assessore alla sanità, Luigi Arru, che con gli enti territoriali e lanci. Se un ritardo anche di venti giorni ci porta a chiudere il cerchio e a raggiungere il risultato, questo è comunque straordinario, ha commentato l'assessore Arru che ha partecipato ai lavori, illustrando in avvio i punti cardine della riforma. Ora tutto dovrà essere ufficializzato in un vertice di maggioranza, ma la linea scelta dal PD sembra quella destinata a prevalere, una presa di posizione che disinnesca il rischio di andare in aula e finire sotto, anche perché i numeri di cui goda la maggioranza sono risicati e basta la defezione di un paio di consiglieri regionali per una crisi che questa volta, data all'importanza del tema, potrebbe anche portare alla fine della legislatura.